amici di extreme hardware quest'oggi vi parliamo nuovamente di action cam e in particolare vi parliamo della dasne p3 che ci è stata gentilmente fornita da gearbest ho già aperto la confezione in quanto è di dimensioni piuttosto generose e con vari involucri di plastica quindi un po' difficoltosa da aprire in diretta vi faccio velocemente vedere quello che è l'imballaggio originale c'è questa parte in plastica che protegge e mostra appunto la cam ci sono poi alcune illustrazioni del prodotto qua in basso sul fianco c'è l'elenco dei vari accessori inclusi e sullo retro ci sono alcune delle specifiche tra queste vi voglio ricordare velocemente il sensore che è un panasonic da 16 megapixel il chipset o processore d'immagine che è una barella a7 ls la possibilità di registrare video in full hd quindi 1080p a 60 fps oppure 720p a 120 fps ci sono poi varie altre modalità di risoluzione e frame rate c'è ovviamente la connettività wifi c'è un display da due pollici sul retro batteria da 1000 mAh capacità o meglio resistenza all'acqua fino a 20 metri di profondità espansione tramite micro sd fino a 64 gigabyte possibilità di collegare la cam tramite hdmi anche al televisore infine angolo di visuale 170 gradi mettiamo da parte la confezione vi faccio vedere prima della cam gli accessori che sono veramente molti partiamo subito con un graditissimo accessorio compreso nel bundle ovvero il cavo hdmi che molto raramente si vede sulle cam di questo tipo e di questa fascia di prezzo cavetto hdmi che serve appunto per collegare la cam al televisore poi abbiamo il cavetto usb che serve per il collegamento al pc e la ricarica della batteria ci sono poi a proposito di batteria una batteria aggiuntiva l'altra è già stata inserita nella cam insieme ad una vasetta per la ricarica appunto di entrambe le batterie contemporaneamente questo è un accessorio che anche come nel caso del cavo hdmi difficilmente si vede incluso nel nel bundle del prodotto ci sono poi invece i più classici accessori ovvero un paio di bracket angolari un paio di viti per il fissaggio della cam questo supporto di incastro con relativa vite poi abbiamo due supporti di incastro rialzati e quattro supporti di tipo adesivo ruotabili di 360 gradi infatti ci sono queste due piccole alette che si possono premere e il supporto come vedete ruota senza problemi la parte inferiore dei supporti in quattro casi su otto scusate in due casi su quattro si tratta di quattro supporti totali è una base curva mentre negli altri due casi è una base di tipo piatto ovviamente c'è anche il pad adesivo da applicare nella parte inferiore e quindi sul sull'oggetto alla quale vogliamo attaccare questo supporto per esempio un casco da moto c'è ovviamente compreso nel bundle il manuale e logicamente il case impermeabile per quanto riguarda il case si tratta di un oggetto in policarbonato ben fatto e ben rifinito l'attacco qui in basso decisamente solido ovviamente tutto compatibile con lo standard gopro i pulsanti fisici sono decisamente buoni a livello di feedback nulla che vedere con i vecchi pulsanti che troviamo per esempio su alcune versioni di sj cam l'apertura del case in policarbonato è molto semplice si effettua in questa maniera quindi classica apertura scatto per quanto riguarda il manuale abbiamo soltanto due lingue disponibili non lo apro interamente perché è molto molto grande parecchio dettagliato comunque da una parte abbiamo il cinese dall'altra abbiamo l'inglese è parecchio con piuttosto comprensibile ovviamente chi non conosce una singola parola inglese avrà alcune difficoltà però insomma non è nemmeno troppo complicato imparare a utilizzare la cam senza ausilio del manuale andiamo a vedere quella che è quindi la cam come vedete si tratta di una classicissima action cam a livello costruttivo è realizzata interamente in plastica non ci sono parti in metallo ma comunque la qualità costruttiva appare insomma più che accettabile più che più che buona per quanto riguarda le caratteristiche tecniche vi ho già detto sostanzialmente tutto a livello costruttivo abbiamo un paio di pannelli uno sulla destra attraverso il quale si accede alla batteria ecco qua uno sulla sinistra invece in plastica decisamente flessibile attraverso il quale si accede allo slot per la micro sd alla porta hdmi e alla porta usb lo si inserisce a pressione e devo dire che questo è l'unico punto che non mi ha convinto più di tanto del prodotto in quanto questo sportellino in plastica tende a piegarsi con eccessiva facilità e poteva essere fatto meglio secondo me è anche vero che comunque la cam viene utilizzata nel 99 per cento dei casi all'interno del del proprio case e di conseguenza non si pone il problema del fatto di avere alcune delle porte scoperte per quanto riguarda il software andiamo ad accendere la cam e vi facciamo vedere come è stato realizzato appunto il firmware di questo dispositivo ci sono vari tre pulsanti fisici che permettono di interagire appunto con il firmware con i pulsanti di ascensione possiamo spostarci tra le varie modalità della cam e l'elenco dell'ordine abbiamo una modalità video la modalità foto la modalità timelapse la modalità burst poi c'è la galleria e infine abbiamo le impostazioni accedendo alle impostazioni come vedete possiamo modificare sostanzialmente tutti i settaggi riguardo a video fotografie bilanciamento del bianco dei colori la iso insomma sostanzialmente tutto possiamo impostare gli intervalli di tempo sia per la modalità burst che la modalità timelapse ci sono poi alcune impostazioni di sistema ve le faccio vedere velocemente che permettono di modificare il sistema della tv da ntsc a pal poi ci sono alcune voci riguardanti il risparmio energetico come lo spegnimento automatico della cam oppure del solo display la lingua dei menu che però può essere solo come nel caso del manuale in inglese o in cinese possiamo poi controllare la versione del firmware formattare la scheda micro sd oppure attivare il wifi il wifi si attiva equivalentemente anche tenendo premuto questo pulsante per alcuni secondi come vedete ci sono alcuni led di notifica che ho dimenticato di mostrarvi ce ne sono due sul frontale uno qui sopra uno a fianco del display ed uno sul fondo i led sono davvero molti e sono comunque utili per verificare al volo il il funzionamento della della cam insomma come avete visto si tratta di un prodotto tutto sommato ben costruito il software è decisamente completo abbiamo già giocato insomma con il prodotto per alcuni minuti e non ci è sembrato che manchino insomma particolari voci all'interno dei vari menu oppure modalità che sono del tutto assenti a prima vista sembra un prodotto decisamente ben fatto ovviamente vi rimandiamo alla recensione completa per ulteriori analisi e dettagli del prodotto